Probabili formazioni, Salernitana Empoli, venerdì alle 20.45 sarà l'anticipo della 24esima giornata, sappiamo che la Salernitana sta cambiando un po' pelle, anche oggi è stato annunciato, sta facendo le visite Manolas e quindi un altro difensore di esperienza per un'impresa che vuol fare ancora una volta la Salernitana. Consigliato Candreva, perché comunque è il giocatore, lo sappiamo, più in forma, più tecnico, più propensa al bonus, quindi in casa contro l'Empoli ancora di più si mette la Scoma e sedia, dovrebbe partire lui titolare, non segna dalla 14esima giornata, se non ricordo da memoria, dalla 12esima, scusate, dalla 12esima giornata ci sta andando a schienare contro l'Empoli come terzo slot, sconsigliato Pellegrino, è appena arrivato, non ci sentiamo di andare a consigliare per questa giornata. In casa Empoli, Zurkowski è il giocatore più in forma, anche se nell'ultima non ha fatto benissimo, però è sicuramente il giocatore più tecnico dell'Empoli, visto anche le diverse defezioni. La Scoma è se Luperto viene da 2-7 consecutivi, proviamo ancora una volta a schierarlo, anche se avrà dalla sua parte idea, però ci sta andando a schierare, soprattutto se giocate con il modificatore di difesa, sconsigliato Grassi a rischio ammunizione. Cagliari-Lazio sabato alle ore 15, è difficile consigliare qualcuno in casa Cagliari ragazzi, ve lo dico da col cuore, forse Viola, direi giusto Viola che è in ballottaggio, non è nemmeno detto che possa giocare titolare, in ogni caso si può mettere, se non avete grosse alternative, con copertura in panchiera, anche se al voto comunque ci andrà. Però è giusto dirvelo che non ha la titolarità garantita. La Scoma è Sein Andez, perché comunque con la Roma, ma un po' come tutto il Cagliari, lo sappiamo, però da lui ci aspettiamo magari una prova di carattere, quindi magari vi può portare quel 6, se magari siete in difficoltà nel trovare dei titolari a centrocampo, lui ci può stare. Sconsigliato Oberth, non è detto che possa giocare titolare, in ogni caso, se lo avete, leghe numerose, non andatelo a schierare. In Casalazio sicuramente immobile, perché è immobile? Perché batte i rigori, perché ha 199 gol in Serie A e perché il Cagliari è la seconda squadra a cui ha fatto più gol. Al Genoa ne ha fatto 14, al Cagliari ne ha fatto 12, quindi sicuramente da mettere. La Scoma è Sefilippo e Anderson, perché non è in forma, è vero, ci sono tanti dubbi, io stesso sono un fantapossessore di Anderson, però contro il Cagliari io lo vado a schierare. Sconsigliato Marusic, potrebbe partire titolare, potrebbe anche partire dalla panchina, ma non è in condizioni. Avrete sicuramente un profilo più appetibile per questa giornata rispetto a Marusic. Roma-Inter, sabato, ore 18, uno dei big match. In Casaroma, Dybala è il consigliato perché sta facendo bene, arriva anche dalla pietra col Cagliari, batte i rigori, quindi ci sta a metterlo. Scomessa Lukaku, perché scommessa? Non c'è un dubbio su Lukaku, però sappiamo che nelle partite un po' più importanti Lukaku tende un po' a sparire. A me è successo, io sono fantapossessore di Lukaku, di non metterlo nella sfida contro il Milan, ma contro l'Inter va messo perché è un ex, perché vorrà sicuramente far bene rispetto alla parità di andata, dove era completamente scomparso dai radar. Sconsigliato Paredes, dovrebbe partire lui i titolari, il play titolare di De Rossi, però è sempre un giocatore un po' caotico, quindi ammunizione, quindi magari ti prende l'insufficienza di rire su altri profili. In casa Inter, al di là di Lautaro, Turam, Cialanoglu, Liavetri, li dovete mettere. La scommessa può essere a Cerbi, ex Lazio sta facendo un ottimo campionato, un rendimento dei tempi della Lazio in cui prendeva sempre la sufficienza e ogni tanto il bonus lo può portare. Qual è il giocatore sconsigliato? Sinceramente in casa Inter, forse Dunfriss perché ha perso la titolarità in questo momento, viene confermato Darmian, insomma non è il Dunfriss che ci aspettiamo, quindi magari in questa giornata volete schierare un difensore titolare. Sassuolo-Torino, sabato alle 20.45 in casa Sassuolo, ancora privo di Berardi, Pinamonti è il rigorista e il capocannoniere dopo Berardi con 7 gol, quindi si può schierare come terzo slot. La scommessa è Doig perché comunque è un giocatore che spinge sulla fascia, è un giocatore in grado di portare magari qualche assist contro il Torino, ci può stare, sarà una bella sfida Doig-Bellanova. Sconsigliato Ferrari perché sinceramente avrà di fronte Zapata che è consigliato in casa Granata, quindi non andrei a consigliarlo. Casa Granata, ripeto, Zapata consigliato e Bellanova la scommessa perché è una bella sfida e magari tutti e due possono far bene. Sassuolo-Torinova è il difensore centrale che mi dà meno garanzie in casa Granata. Fiorentina-Frosinone, domenica, lunch match 12-30 in casa Viola. Nico Gonzalez, ragazzi, è rigorista, è vero che l'ha sbagliato l'ultimo contro l'Inter, ma è sicuramente un giocatore che se avete lo dovete schierare. Se non lo mettete col Frosinone, con tutto il rispetto del Frosinone, intendiamoci, però gioca in casa, la Fiorentina ha necessità di far punti, quindi Nico Gonzalez si mette, mentre Beltran è la scommessa. È in ballottaggio con Belotti, ma potrebbe anche giocare insieme a Belotti, magari sul ruolo di trequartista, quindi ci sta andarla a mettere come scommessa. Sconsigliato Milenkovic, Ranieri è squalificato, quindi Milenkovic sarà sicuramente titolare, diciamo che non mi convince tanto. In casa Frosinone, ovviamente su Le, batte i rigori, batte le punizioni, batte gli angoli, quindi si mette. La scommessa è Mazzitelli perché è un centrocampista di inserimento. Al Manta soprattutto l'istato M è un centrocampista che golli fa, l'abbiamo visto, quanti ne ha fatto in questa stagione. Il giocatore sconsigliato è Romagnoli perché ha perso un po' quella pil che aveva all'inizio stagione, quindi sinceramente non mi sento di andarla a consigliare per questa giornata. Bologna-Lecce, domenica ore 15 nel Bologna. Ovviamente Zirze, l'abbiamo detto, è un giocatore assolutamente da schierare sempre, è in grado di segnare a chiunque. La scorsa giornata hanno dato 8 gol ma il tiro era suo. La scommessa è Freuler perché comunque quel centrocampista di rendimento non segna, lo sappiamo, però magari può prendere quel 6,5. Sconsigliato Kristiansen perché sinceramente da un giocatore come lui, anche visto quanto magari è stato pagato in sede d'asta, ci aspettiamo sicuramente di più. Nel Lecce, Oden, abbiamo visto il gol su punizione, non ci sono tanti gol su punizione in questo campionato ragazzi. Appena 8 gol sui tipo 480 gol, quindi è meno dell'1%, però Oden è un giocatore tecnico e quindi si può andare a schierare magari come quarto centrocampista. La scommessa è bandà, è ritornato, è in grado di saltare l'uomo, è in grado di prendere la munizione all'avversario ed è in grado di portare comunque un'ottima prestazione. Quindi ci può stare ad andare a schierare come scommessa, sconsigliato Baschirotto, lontano parente del difensore sorpresa della scorsa stagione. Monza-Verona, domenica ore 15 nel Monza. Di Gregorio ragazzi, sì, è ritornato dall'infortunio, due clean sheet consecutivi, otto clean sheet totali, lo mettiamo in casa col Verona, non abbiamo dubbi, anche se abbiamo un top di reparto di Gregorio lo andiamo a mettere. Gagliardini è sconsigliato perché non è nemmeno detto che possa partire titolare, gli può essere preferito Bondo e soprattutto Birindelli è la scommessa. Perché la scommessa? Perché ha preso la titolarità, sta ritornando quel giocatore che per chi seguiva la Serie B giocava nel Pisa ed era un esterno molto interessante. Quindi ci può stare ad andare a schierare come scommessa per questa giornata. In casa giallo-blu, Duda è il rigorista, visto anche la squalifica di Suslov, quindi ci sta ad andarla a schierare. La scommessa è Noslin, qui con Svitesky titolare che potrebbe debuttare anche Svitesky, in ogni caso Noslin, sia da esterno, sia da punta centrale. Ci può stare ad andare a schierare magari in leghe numerose dove siete in difficoltà davanti, sconsigliato Davidoviz, a rischio cartellino e a rischio insufficienza. Genoa-Atalanta, domenica ore 18, nel Genoa, Gudmunds ovviamente si mette. Malinowski lo mettiamo come scommessa perché è l'ex di turno. È un giocatore che comunque gioca più indietro rispetto a quando giocava a trequartista nell'Atalanta, ma è sicuramente un giocatore che vuole far bene e quindi ci può stare ad andare a schierare come scommessa, sconsigliato Vogliacco, De Winter è squalificato che dovrebbe essere lui il titolare. In casa Atalanta, ovviamente, De Ketteler sta facendo un campionato al di sopra forse delle aspettative, ma in questo momento diventa immarcabile. La scommessa è un altro giocatore che a me personalmente piace tantissimo, che Miranciuk sta trovando minutaggio e in grado di portare bonus, sconsigliato in casa Atalanta e Attebur, perché comunque è il terzo nelle gerarchie. Olme il titolare, Zappacosta l'alternativa, Attebur l'ulteriore alternativa. Milan-Napoli posticipo domenica ore 20.45, un altro big match. In casa Milan Giroud si mette il rigorista della squadra e il capo canoniere, quindi si può andare assolutamente a schierare. La scommessa è Adli perché comunque si sta adattando al nostro campionato in un ruolo non suo e ci sta andarla a schierare magari se non avete grosse alternative. Sconsigliato Musa, rendersi squalificato, dovrebbe giocare lui. Sinceramente non mi ha convinto più di tanto. In casa Napoli Varaschelia, l'abbiamo visto contro il Verona. Cenni di Varaschelia della scorsa stagione. Quindi sta facendo bene, andiamola a mettere contro il Milan. Politano ha recuperato, ci può stare a andarla a schierare come scommessa. Sconsigliato Cajusta, dovrebbe essere ancora lui il titolare. In attesa magari tra ore al posto di Zieninski, quindi Cajusta è sconsigliato per questa giornata. Chiudiamo. Con Juventus Udinese, posticipo lunedì, ore 20.45, in casa Juve, Bremer si mette, difensore centrale, rendimento, due gol in stagione, sale negli angoli, quindi ci sta andarla a schierare. La scommessa è Ildiz, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Chiesa, quindi ci sta a metterlo magari come terzo slot, dipende chiaramente dalle alternative. Sconsigliato, Alexandro, Daniele squalificato, Alexandro dovrebbe essere il titolare, è un giocatore che a livello fantacalcistico non ha nessuna valenza. In casa Udinese, vista la squalifica di Pereira, Toven, titolare, è probabile rigorista, si può schierare. Lucca è la scommessa, perché comunque è il bomber dell'Udinese, sconsigliato in generale tutta la difesa, in particolare al modo Christensen, perché comunque potrebbe prendere un'insufficienza grave.